Musica Ben trovati al meteo, pressione indecisa, aumento sull'Italia, ecco che anche al nord-est avremo un tempo più stabile, il dettaglio di mercoledì 28 ottobre. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, tuttavia nelle ore più fredde della giornata saranno possibili foschie, nebbie in pianura e localmente sulle vallate. Per il resto ampio soleggiamento dappertutto, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi, oscillanti invece tra i 14 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo al mattino cielo localmente nuvoloso, dal pomeriggio invece tanto sole, un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime fino a 11 gradi, massime sui 17-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato ovunque, anche qui non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 6 gradi, massime fino ai 16 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Grazie